Uomini e donne ha una relazione con Valentina Galli? A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai ed ogni trono ha la sua storia intrigante, questa è la volta di Giulia che durante la puntata di ieri ha avuto una lite violenta con il suo corteggiatore Flavio. Il ragazzo è stato accusato dalla bella tronista di essere già impegnato fuori dalla trasmissione. Il botta e risposta tra i due è proseguito per un po di minuti. Giulia sembra essere convinta di ciò che dice e addirittura prova ad indovinare chi possa essere la fidanzata del ragazzo. Uomini e donne, ancora segnalazioni su Valentina Galli?. Il nome ci è noto, si tratta di Valentina Galli la corteggiatrice di Luigi Mastroianni che abbiamo visto spesso impegnata in liti e punzecchiamenti con Irene la scelta del tronista. In passato erano già arrivate delle segnalazioni su Valentina, stiamo parlando del trono di Luigi il quale aveva deciso di darle fiducia e continuare la conoscenza. La cosa strana è che già allora le segnalazioni in merito riguardavano proprio il rapporto tra lei e Flavio. Adesso la storia ritorna tra le mura dello studio di Cinecittà e questa volta viene affrontata in modo totalmente diverso perché Giulia non ha alcuna intenzione di passarci sopra. La ragazza gli ha quindi chiesto spiegazioni per passare poi al controllo del cellulare che è ormai diventato una prassi nel programma. Flavio inizialmente le ha concesso di utilizzarlo e controllare qualunque cosa, poi si è mostrato parecchio infastidito e strapandole il telefono dalle mani è andato via. Valentina intanto ha seguito la puntata da casa ed ha deciso di rispondere come meglio può ovvero attraverso delle storie su Instagram, ha affermato di essere stufa e stanca di ricevere calunnie gratuite da parte di gente che non conosce la realtà ma che si permette di giudicare e fare dichiarazioni gravi ma soprattutto infondate solamente per dare fiato alla bocca. Uomini e donne, Flavio abbandona il programma. Insomma, il confronto tra latronista ed il corteggiatore è terminato con labbandono del programma da parte di Flavio e stando alle ultime anticipazioni il corteggiatore non si presenterà nemmeno alla registrazione successiva. La decisione finale è stata più che altro tra le mani di Giulia che si è infastidita non poco dopo che il corteggiatore ha iniziato ad avere delle reazioni fuori luogo di fronte a delle normalissime domande. Secondo Giulia chi non ha la coda di paglia ha voglia di dare dimostrazioni, il corteggiatore invece si è dato alla fuga, quindi avrà certamente qualcosa da nascondere. Grazie a tutti.